Ups, tutti, 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 miei cari upsini e upsine, come, 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 come state? Spero bene. Oggi sono qui solo per voi in questo nuovo video dove sto riutilizzando il Tascam che non usavo da un pochino ormai. Perché vorrei proprio che voi vi concentraste sulla mia voce. Io cercherò di parlare in modo lento, così che possiate, appunto, concentrarvi. Diciamo che è per voi tempo di dormire. Di rilassarvi. Di stare bene. Bene. E io sono qua esattamente per questo. Quindi non preoccuparti di nulla, nulla, nulla. Allora, la primissima cosa da fare prima di iniziare questo video è farti mettere in un luogo comodo, in una posizione comoda, così da favorire il relax e l'attormentarti. Fantastico. equilibrium. Ringta. 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 Ringta, ringta. Ringta. Ringta, 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 ringta bellagio. Ringta. 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 Adesso possiamo cominciare Nel corso di questo video farò anche un po' di mouth sounds, un po' di tongue clicking e un po' di tapping Ok Diciamo che oggi vorrei dirvi quattro punti Quattro quindi, uno, due, tre, quattro Che secondo me andrebbero seguiti per riuscire a vivere meglio Di analizziamo piano 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 Prima di tutto credo che per vivere bene sia importante farlo in un ambiente pulito Per ciò che sia la tua camera Che sia la tua casa Credo sia veramente importante Riuscire a mantenerla pulita e in ordine Così da riuscirci a vivere nel migliore dei modi Così che la nostra psiche si trovi bene Capito? Così? Così? Per una nostra salute mental le salute fisica sia corretto riuscire a far riposare, riposare, riposare bene il nostro corpo, farlo riposare bene e farlo dormire il giusto numero di ore, perciò io vi consiglio veramente tanto di non andare a dormire troppo, troppo, troppo tardi se sapete che il giorno dopo avete comunque delle cose da fare e che dovrete svegliarvi più o meno presto perchè il nostro corpo poi ne soffre e vi sentirete più stanchi di quando in realtà forse siete andati a dormire qui 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 che va da un orecchio all'altro chiedete gli occhi concentratevi sulla mia voce come se fosse una guida in questo percorso adesso vi parlerò degli altri due punti è molto molto importante per condurre una buona vita mangiare sano e bere molta acqua potrebbe sembrare scontato ma in realtà non lo è bisognerebbe cercare di eliminare il più possibile tutto quello che è il cibo spazzatura non che non si può proprio mangiare perché non si può mangiare ma sarebbe meglio non mangiarne in quantità eccessive più volte alla settimana capito? quello sarebbe sbagliato bisogna far stare bene il nostro corpo per poter vivere bene e ultima cosa ma assolutamente notti in minore importanza l'attività fisica è molto importante mantenere il corpo allenato così che esso rimanga dentro come dire più giovane perciò bisognerete cercare di seguire questi quattro consigli al meglio possibile ok 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 qui qui ok qui qui Grazie a tutti. Vocalizzati sulla mia voce, su questi suoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso credo sia giunto il momento di dire cucù, cucù. In quanto se non ti sei ancora addormentato o addormentata è il momento di farlo. Quindi iscriviti al canale se non è ancora fatto. Lascia un like se vi è piaciuto un bel commento e se vuoi rimanere ancora insieme a me però puoi guardare il mio video precedente che ti lascio qua. Una mia playlist che ti lascio qui oppure il tasto per andare sul mio canale e vedere video, shorts, tutto quello che vuoi che ti lascio qui. Spero veramente di averti tenuto compagnia e di essere riuscito a farti chiudere gli occhi. Va bene, io ora ti mando un grande bacio e buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte.